sapete cosa mi fa buonasera buonasera a tutti scusate sapete cosa mi fa neanche rabbia neanche rabbia non è una questione di rabbia ciao ciao a tutti non è una questione di rabbia è proprio una questione di di correttezza di saper vivere ok ciao frank è proprio una questione di famiglia famiglia per sempre ragazzi è proprio una questione di saper vivere al meglio ok ciao yes allora io sono qui pubblicamente devo fare i miei complimenti i miei apprezzamenti ok a ivan griego ragazzi su twitch ci siamo stasera e approfondiremo al meglio questo discorso ma voglio fare questa live piccolissima che sto per fare delle cose di oscene quindi ciao ale ciao a tutti ragazzi benvenuti devo fare dei giovane degli apprezzamenti e e devo aggiungere in maniera quanto più corretta possibile ok e devo aggiungere questa questa cosa alle storie che ho detto ok inerenti a alle storie che ho fatto prima cercherò ok su diretto passare il cazzo mi interessa quello perché tanto tutto quello che dico e tutto quello che faccio ormai avviene sempre ripostato dappertutto via allora ragazzi io sono stanco di vedere una falsità di questo genere su una piattaforma su delle piattaforme ok perché siamo circondati di falsità da delle persone che in privato mi scrivono delle cose in privato anno di comportamenti e pubblicamente cavolo ne hanno altri io ho fatto degli errori due anni fa li ho pagati ho terminato ho capito da quegli errori come procedere al meglio procedo e procederò al meglio sempre ho allontanato e finirò di allontanare tutte le persone negative dalla mia vita e da tutti i miei social mi circonderò di solo persone come questo cretino vedete mi circonderò di solo persone che saranno sempre educati rispettosi che capiranno quando una persona sta dicendo un concetto serio e ci sono dei momenti in cui è meglio non fare dell'ironia in un concetto serio di questo genere Ivan Grieco ragazzi ho avuto degli discrezzi passati con lui incredibili da quando sono rientrato e da quando mi ha conosciuto di persona e da quando ha visto e ha potuto vedere che persona sono ok realmente e come sto procedendo sui social tralasciando che mi viene spesso a trovare e per me è sempre solo una gioia ok ma non ha mai avuto un comportamento scorretto o falso nei miei confronti e di nessun altro che io conosca ok mai 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 e questa è una cosa che io la voglio dire pubblicamente raga ok è una cosa che io la voglio dire pubblicamente ci sono persone e non aggiungo nomi perché lo sapete io sono sempre per la via no dissing no odio no altro che raga ma della falsità che c'è in giro ma è assurdo raga è assurdo in privato hanno dei comportamenti da vicino ne hanno ancora altri pubblicamente hanno dei comportamenti vergognosi vergognosi di una falsità al limite del limite e io pubblicamente questa live di tre secondi che non ho annunciato ok nessuno sa e poi stasera affronteremo il discorso in live ore 23 live su canale twitch che oggi è sabato è sabato la domenica andiamo dalle 23 fino alle 2 di notte e dalle invece 8 di sera fino alle 2 di notte da lunedì a venerdì raga di una falsità vergognosa ed io scelgo di allontanarmi da tutte queste persone perché per fama per soldi per business per followers per meme per qualsiasi cosa si voglia io apprezzo 100 volte una persona che in faccia ti dice una cosa e ha dei comportamenti sempre onesti e sempre lineali ok piuttosto che delle persone che alle spalle hanno un comportamento di persona ne hanno un altro in privato su su whatsapp ne hanno ancora un altro e pubblicamente in live ne hanno ancora un altro giusto per ok va bene così non ho altro da aggiungere io tenevo pubblicamente a dire che grand'uomo ivan che grand'uomo te lo dico da amico ti ammiro alla mia amicizia e il mio rispetto mai una parola a sproposito mai 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 ragazzi mai non ha mai detto a sempre stato sulla sua linea sempre anzi ci sono persone quando io ho avuto dei problemi che io ho scritto ok e ivan è uno di questi e lo dico tranquillamente che mi hanno consigliato al meglio altre persone invece ragazzi hanno avuto un comportamento vergognoso ok quindi non aggiungo altro va bene così e non so davvero che altro aggiungere va bene non voglio non voglio assolutamente creare problemi o altro semplicemente dovevo fare questa non ce la facevo più ciao tizio dovevo dire questa cosa non ce la facevo più è più forte di me anche pubblicamente la devo dire è su instagram non mi interessa perché io sono sincero sono fatto così ho fatto delle cazzate ho detto degli errori ho fatto e commesso degli errori in passato ho detto delle bugie le ho pagate le persone pagano e sbagliano e migliorano se sono intelligenti capiscono gli errori e soprattutto se dentro qui ok dentro qui hanno del bene va bene io non voglio assolutamente essere l'eroe di nessuno io voglio solo essere una brava persona che va sulla retta via con persone che mi vogliono bene mi rispettano mi stimano e è ugualmente io voglio a loro stima rispetto ed amicizia non mi interessa avere duemila persone in live mille e seicento troll che ridono scherzo e ti trattano da persona che non non sono e mai sarò ok non mi interessa avrei potuto fare il giullare avrei potuto fare il giullare tutta la vita a quest'ora non so quanti soldi avere non so quanti forlo per stare non mi interessa non sono quella persona non sono e non sarò quella persona mai e mi fa un gran piacere che tantissime persone l'hanno capito e tantissime persone mi scrivono e mi seguono con affetto io sono rosario riccardo una persona che sbagliato in passato ha sbagliato ha commesso degli errori ok ha commesso degli errori ha detto delle bugie fine due anni fa le persone cambiano migliorano maturano ok non aggiungo altro semplicemente è una cosa vergognosa che ci sono dei comportamenti in giro e soprattutto dei video in giro vergognosi vergognosi che io sono una troppo una brava persona quello è il problema io non riesco a fare cattiverie perché ho ricevuto tanta cattiveria tralasciando gli sbagli che ho fatto non riesco a fare cattiverie non riesco e non farò mai cattiverie non inciterò mai nulla contro nessuno io sono sempre per la retta via dico solo ragazzi riflettete andate allo specchio riflettete di cosa state facendo dovreste essere ad esempio per tante persone che vi seguono siate sinceri verso tutti siate sinceri verso tutti capito siate sinceri verso tutti non prendete in giro non prendete in giro le persone che vi seguono svegliatevi svegliatevi invece di fare le cazzate su di me che fa dei video di persone di 15 anni fa che conoscevo che andate a rompere le scatole a queste persone ok che ho neanche più me le ricordo ed è una cosa bruttissima perché le le persone vanno rispettate le persone vanno rispettate ci sono persone che sul web non vogliono starci e le dovete lasciar stare ragazzi capito ci sono persone ci sono persone che che vieni entra in live ti faccio la richiesta vieni vieni Entra in live, vieni, entra in live, spiegami, spiegami, contestualizzami quello che hai appena scritto, spiegami, spiegami, contestualizzami quello che hai scritto, Arosta, chissà, vai, Gian, vieni, Gian Leo, vieni in live, contestualizzami questa cosa che hai appena detto, vieni, Machilo, che entri tu, amico mio, io e te siamo amici, vieni, vieni in live, contestualizzami questa cosa che stai dicendo, contestualizzatemi, le palle ce le avete o no, e Gian Leo, vieni ancora, vieni, vieni in live, ti mando la richiesta, Vieni, vieni, dimmelo in faccia in live, davanti a tutte queste persone, Arosta Vai, dimmelo, dimmi quello che pensi, buonasera, dimmelo, che stavi scrivendo? Pensando per il truffatore, volevo triggerarti, ok? Volevi triggerarmi, ti sembra una cosa bella, ti sembra una cosa giusta, comunque sei una persona matura, no? Ti vedo una persona di 24-25 anni, no? Scrivere una cosa così brutta, dovresti dare l'esempio, secondo me, cioè, avendo un'età comunque non più dai 14 ai 16 anni, dovresti dare l'esempio e non scrivere delle cose che assolutamente sono incontestualizzate. Ti voglio bene, grazie che hai capito, ti mando un bacio, se hai qualcosa da dire, beh, dimmi pure, scusami, non ti ho fatto neanche parlare. Prego? Posso? Vai, come no? Io non ho idea del perché tu stia sclerando, beh, seguo più la vicenda un po', ma non puoi continuare a...